ehi, tanti c'è, 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 ma questo bel lubacco che c'è così costa? quanto avete in casa mi date, non c'è un problema, quello che avete ma è proprio sicuro? signori non c'è un problema, guarda, noi abbiamo messo tutto in un contrattino, e uno, vede, perché tutto nero su bianco, non siamo razzisti signori, una con una firmettina non si è vero, presidente, non si è vero, tu dormi o... no, mancamento ogni tanto mi incanto ho capito, ma ci state pensando, signori vi porto Elis, Vasco, Beppe e Roberto, e perché mi siete simpatici, buone o su sei ballerine di samba pizzu, su brasiliani? no, de Babilomis le sto abbronzando, non le faccio parlare, e mi diventerò brasiliani contenti? se ci vuoi i ballerini, andrà toccato a firmare, io, a firmare mi raccomando, Zeani, le copra già e va, tutto in don a me l'affare, l'affare pare proprio, proprio conveniente benissimo, benissimo, ma rubacu 10 che non si dare mai, vada vos altro, nessuno, contenti? ah Zeani, scusati, il contratto lo teniamo, non si scimmate, non si scimmate, e lo tenga pure, o altre coppie, 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 quello che è scritto, è scritto, benissimo adesso passiamo a cose un pochettino più interessanti come contanti, cosa avete, quanto avete? contanti saluti non te ne ho snudo, vuoi morire ne so sa busta? eh, e mo' questo non giro in isbietta, girato su isdomus e vediamo quello che raccimoria quello che abbiamo gli diamo benissimo, anche io mi sposto un attimino a Los Angeles con un jumbo, c'ho un contratto da firmare, 5 minuti e andava bene, mi chiede la risolta, il gusto è su, lui? grazie, molto a guanta che cappone hai i cirighetti che suvani? hai i cirighetti zammari cappone speriamo che la raccolta dei denari sia profigua ma cosa avete, qualcosa anche a livello di processione? e non è che si interessa, non so, un miracolo in diretta, un scianca che non la chiamina ah si abbiamo gli scianchiati norvegesi con la pratesa con un fegato di merlu una cosa, un sacchere di giochi è una cosa interessante oh e questa era la fase della contrattazione adesso vi faremo vedere quando il comitato diventa operativo e manda la in isdomus e bosats la domanda sul dinario Tullio eccomi ilio, eccomi arrivò io sono in ritardo io se l'anticipo tu, porca miseria secondo lui sono in ritardo io come al solito da che ti cominciamo su? cazzo è una domanda balizzata, lo ho messo proprio eh, allora prima me la faccio io e ci rifaccio bene i commenti si vai, eh? ah tu puoi rispondere a me come ci sei domandato a sentire la saggia? eh, te la faccio vedere eh, fammelo vedere eh, che è qua chi è? ma stai, è una porta che chi stia o non è che sto? buongiorno, siamo il comitato per la festa di saliboio, buongiorno sono contento di vedervi sì ah, non duccio, ma te non quizzi questo è domanda la sede, è contento di vederci? no, non sono contento di vedervi non è contento di vederci e perché non è contento di vederci? perché voi siete il comitato io l'ho capito subito, eh? a me non mi pregate io sono furbo ho fatto bene, non c'ho ragione ah, sì ah, sì ah, sì voi siete venuti per vendere una spirapolvere ma che è una spirapolvere? eh, se siete del comitato, fatemi riconoscere e non dapisi la coccarda però stavo dicendo tutt'ora che sono il comitato ti finisci o no? no, sono dei fidel ho fatto bene? non c'ho ragione? eh, fammi carità a Napoli noi stupi vieni con i miei reni, asco vai e fatti curare, fratti aspe, mi ha fatto piacere di rivedervi? oh, ma questo canto che stanno butta a fare sempre domanda, non so io ti ha fatto piacere vederci? sì, mi ha fatto piacere di rivedervi, sì a noi no aspe, ma voi siete il comitato? eh, ma vi faccio cadere da spacco in coca asco, eh ma tu sei uno laulone dellì aspe, ma girate tutte le case tutte le case giriamo asco, se andate a casa di Valerio ho un vargiù e ditele a lui da parte il mio che troppo è che Valerio ho un vargiù non c'ho ragione? ma va, mi chiede nobile il curo è manco male che lui mi dò piacere di fare il vino come si domandavano i soldi, eh? ascolto, il mio metodo l'ho studiato con gli umani con gli extraterrestri lo devo ancora sperimentare capito, eh, purtroppo asco, mi chiesti al mio metodo e ora vi faccio vedere come ci si domanda questo denaio mi ha rubato l'anima scusio signor salve 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 come va? mettere lì in coca sto facendo il nuoto sincronizzato mi sono messo la cuffia è difficile ho chiamato un'amica lei ci guarda che bisogna usare nuoto ci sincronizziamo l'uoto e andiamo lì con gli orologi sincronizzati capito? però parto fra un mese ma questa cuffietta dare lì? per non farmi trovare preparato capito? non mi ha fatto bene sono una persona puntuale e beh Sibiri cosa a lei sembro? una supposta mi pare è bella spaziale come cosa ascolti un attimino noi siamo il comitato per la festa di San Iborio ma festa in piazza? si festa in piazza ma festa in piazza a livello di Sartito che faccio cipolle sardegna chianta la cosa 10 è una festa di quelle ma è bene perché la gente ha bisogno di estrapolare l'esterno c'è bisogno di cultura pragmatica no finalmente una persona normale eh Sibiri che li studiavo questo eh 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 adesso che apposto Sibiri guardi che io ho fatto la sesta eh metta cosa stai sei volte la prima elementare eh era affezionata la classe e poi stavo bene perché devo andare in seconda perché inizia a chianto rimango in prima e sono tranquillo spazio sopra un suffizio chiaro in salita ce la fai non ci sono problemi comunque noi stiamo raccogliendo i soldi raccogliendo i soldi a livello di contanti bocci cittimi e cittiri si 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 è così brava c'è più soldi raccogliamo più chiaramente la festa se ne ha vantato eh fatte bene fatte bene sono d'accordo anche perché secondo me un discorso del genere è strettamente collegato a un altro discorso che secondo me cammina come un binario parallelo capito? ah escede perché la donna sta tradendo l'uomo la colpa è di chi è? la colpa è del governo italiano che non dà lavoro capito? deve dare lavoro deve andare in pensione a 30 anni di contributi cosa c'è? una pubblica scoppa su limoni non c'è parcheggio alla città americana una morte in via d'ottuline niente si ha capito? la strottosfera la strottosfera se segare con la pioggia l'ecceso che è cugino dello stronzo ha contaminato le cantine americane Clinton che è Clinton è bionico eh no e non ho capito ma cos'ha crede? la colpa è di Cellino che ha vendito a Allegri Allegri uno che rirà a Allegri ci può cos'è? non ha poco un pene ma cos'ha crede? cos'è? che l'unione dei sessi cos'è? la contemplazione della delegazione della denazione del DNA e l'unione è sarda un grande formato e un grande giornale quando parlo io sono circonciso no ma ci si vedi eh non mi piace divagare cosa sbacchi casinale a un pene di suorvento e uno? no 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 dei non so scinti no è tu bravi scinti ti sa ragione è franichino su scinti bravo ascolti ma come va consiglio comunque ora si scegna a Sottina e non so si intanto Galedina i soldi per la festa di San Liborio e voi te c'è festa c'è? dal tredici al tredici del prossimo mese auguri te mi ti porta a me come te te mi ti porta a me? tu sapete d'ora Sottina e scusa a lei non stanno a cuore le soldi della festa di San Liborio? no e voi? Ma io sono dei piri, mica sono dei liboni, ho dei. Ma no, non è su me ne sa dove? No, sono una che ha voluto fare un lavoro così di mia proprietà, ho preso una pinza di una e mi divampico così e me ne vado. Ma no, non è... Su me ne sentiamo da vacanza. E si ha fatto vedere, non si trova mai prima. Ma se sto a mezz'ora che cerco di parlare, ho cercato di uscire qui in silenzio, fatemi parlare! Ma ti ha fatto un sacco? Che cosa sta? Beh! Eh, lui! Ascolto, ti raggiungo da più? No! No, è la vacanza! Eh, ma è una cosa possibile! È una cosa incredibile! Ci vuole, ci vuole, eh! In questo paese sono tutti i pazzi, sono! C'è possibile chi lo sa che ha una persona normale che sta a vita, non sai? Siete comitato della festa di Salibone o siete comitato della festa? Siamo comitato della festa di Salibone! Sì, sì, bravi, 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 grazie! Grazie, grazie! No, grazie a voi! No, grazie a voi, grazie a voi! No, grazie a voi che con sprenza del pericolo percorrete se ti ritortose le cerca di un obolo, un obolo! Bravi, grazie, grazie! Se tutti fossero come lei! Se tutti fossero come lei, tutti fossero! Se fossero come lei! Stai girando le case estate, vero? Stiamo girando le case tutto il giorno! E siete stanchi? Stanchi affamati, vero? Stanchi affamati di arese! Un po' di... Un po' un po' un po' un po' vero? Un po' di affamati! Cioè, perché non venite a casa a mangiare qualcosa? Bene qualcosa! Grazie, grazie! come no, abito vicino, mangiamo qualcosa, mangiamo, beviamo qualcosa, beviamo fuori parte, ahio, ahio, un'altra volta, grazie, un'altra volta, grazie, no, grazie a lei, no, no, grazie, 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 comunque voi siete state organizzando per i soldi, state, state, questo è il mio contributo, questo, vede, questo è il mio contributo, mi raccomando, non sprecato, mi raccomando, tranquillo, con i soldi sono nelle nostre mani, lo facciamo affinché la fetta, va bene, mi sembra, mi sembra, mi sembra, mi sembra, però prima di dirvi e darvi soldi vorrei dirvi alcune cose, perché prima di me i soldi lo vengono spremati, e può dire quello che vuole, è nel giusto, certo, perché in quanto dei soldi do lo, 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 ma perché non ci seguiamo a tavolino, ci prendiamo un caffè e poi li riparliamo, dai, ci prendiamo un caffè, ahio, pago io, dai, ahio, non mi ricevuto, grazie, non mi ricevuto, davvero, ne ho preso troppo, prego, no, anche a me è troppo maridoso, vero, vero, ci voleva un po' più di zucchero, ci voleva zucchero, ci voleva un po' un po', certo, comunque, allora, prima di darvi i soldi, prima, volevo dire alcune cose, e alcuni punti fondamentali, punti fondamentali, il primo punto serietà, Gli artisti devono essere validi, vali, punto, primo, secondo punto, secondo punto, comodità, seduti tutti, seduti, stia tranquillo, non ti schiari da fondo, è, 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 terzo punto, l'illuminazione, non troppo alta, non troppo bassa, perché si rifame, giusta, 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 quarto, quarto, onore il padre e la madre, C'entra, 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 quinto, non commettere, non commettere, non commettere, e sesto, sesto, commetteteli, commetteteli, settimo, settimo, arrivederci. Ottavo, a te staranno, a te, pitona su di noi. Della festa? Eh. Me li dati un'altra volta, me li date. Non è possibile. Pogliari, Rario. Ci sono scravventi una questa troppo loca, ma pochiari, Rario. Ma pochiari, Rario, di Rario, so, c'è una cosa in macchus. Comunque, adesso lasciamo perdere il giro delle case. Ancora asciusto a sfuggirlo. Lasciamo perdere il giro delle case, torniamo invece alla gente teatrale pachista, Zeani. Eh sì, parlava sicuramente di me. Casualmente. Casualmente. La Svegas, come ti andara? Eh benissimo, ci ho crevato Madonna per presentare un chiarocca, non voleva farlo, butta via a prigio. Comunque, eh benissimo, non ha già ancora. Non ha ancora, tu metti una pazzesiglia, è dondo, capito? E voi come raccolta? Qui abbiamo raccolto un po' di soldi, ma so. Milioni. Andarà bene, milioni. Ah, benissimo. Ma avete tutto il comitato? Avevo questo, ah. No, questi soldi che abbiamo raccoglito. Dio un attimino che controllo. Io ho avuto, non mi invito, ma ho avuto, se sei. Tanto ci saranno 10 milioni, non di più, eh, guardia. Bene, bene, 10 milioni, basta in avanzo. E allora, Oze, come dice il contratto, lei ci porta Ero, Svasto, Roberto e Beppe. Esatto, non ci sono problemi. Sapete cosa faccio? Mi prendo il cellulare e chiedo la conferma degli artisti. E ci confermi gli artisti. Non ci sono problemi. Signor, 200 lire ce li ha. Allora, sto per murere. Attenzione, attenzione. Attenzione. Sio, ma chi mi c'è? C'è un nome di Grocchiano dopo l'Ucchirai. Basta, no? Basta e avanza, grazie. Pronto? Sì, ah, ciao, Ero. Sì, sì, siamo a Cosa Livonia. Ha detto tali saluti. Eh, Natto e Borghi di Sant'Elia. Eh, sono a Cosa la canzone. Dove il cuore muore già. Grazie, grazie ancora. Sì, siamo qui per la conferma. Come no? Come no? Ma stai scherzando? Ma non è possibile? Eh, va. Ma? Fammi sapere. Fatti su, problemi. La cosa è impressionante. Se è tagliato, se sai che devo dire, non puro risonare. Oh, incidente stradale. Ma che incidente stradale? Stava tagliando le unghie con un taglio unghie sgurdo e si è sconchettato i ditti. È una cosa impressionante. Mi salto un turi 30 adatti. Se non fiamo scommettare a fare, siamo denunciati. Quindi non può venire, non può venire, ma comunque non ci sono problemi, perché casualmente io in macchina ho un cantante, una cosa stratosferica, di 4 a 0 cantina, una cosa bellissima. L'hai visto in Sardegna? E come si diceva questo cantante? Si chiama Polchez. Come ti? Polchez, nome d'arte. In Sardegna ho conosciuto come Polet Sagliato. Polet Sagliato. E mi accingo a presentarlo. Adore nel nome. C'erlo qui con me, è una cosa impressionante. Mi scusate un attimino. Pol! Buono, amiccio! E arriva il gatto oppardo, arriva, oh! E questa sarebbe la star? Magari star, dato star, questo vuole fare scettiamo un brodo, vuole fare, oh! Il ragazzo fra una settimana me ne vola negli States e ce lo perdiamo. Ma meglio poi siamo questa Sardegna pure, oh! Sì, di Antonio Ghianzo, mi si tratta dal mio ultimo longuplet, dal titolo matrimonislargin. Oh, ma questa è una questione, è un sardo pure, è una questione. Il sardo conosce 12 lingue bifoccale. E ce l'ho fatta bella, e ce l'ho fatta bella, e ce l'ho fatta bella, rigoglia. Picca su picca e vai, 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 a traballa, vai! Oh, ma questa è che sta scritta! La seconda voce! Magari seconda voce, c'è una direzione del sardo, ma te canta! Ecco, perché c'è stato ammazzammi nel forno, po' carina! Guardi che il ragazzo arriva con l'airbag! Eh, ma voi che? Per lui passeggere il rimorchio. Bene, oh, porco, non dare tutto, aspettami nel confono, vai! Ok, buonimiccio! Vai! Ma voi che era, l'hanno a camminare a te, gustò? Le movenze da sardo! I schiappos del Don Lurio, senza togliere niente a Don Dino, voi che era! Ci mancherebbe! A proposito, il motivetto appena cantato, mi ha fatto venire in mente che devo svolgere una funzione! A gustò, letta di prima e vai! Una funzione fisiologica! A guattere, Don Dio! Simpatico, simpatico! Siamo a posto con la prima sera! La prima siamo a posto! Siamo a posto! Benissimo! Vasco Rossi, prego! Vasco Rossi, per la seconda, signora! Le chiamo al frasco e non so proprio! E' il frasco, va! Signora, 200 lire ce li ha!